come ha vissuto quei cinque minuti finali così assurdi e quanto è arrabbiato per questa vittoria che è sfumata sul più bello che poteva dare ancora più valore a questo inizio di stagione della sua squadra? C'è grande rammarico per il risultato però c'è anche grande orgoglio per la prestazione contro l'avversario di grandissimo valore, fatta una grande prestazione una prestazione che meritava ampiamente i tre punti e che nel finale purtroppo ci sono sfuggiti e addirittura eravamo stati capaci di darne via tre agli avversari. Tutti i spunti che ci devono servire mantenendo alta l'attenzione, mantenendo alta la determinazione che è quella che poi ti fa portare a casa dei risultati che meriti e quando li meriti è giusto anche portarli a casa. Peccato per il risultato ripeto, però molto orgoglioso della prestazione dei ragazzi. Ciao mister Campioni alle Frosino Unita FM, so che non parli di arbitri, ti chiedo solamente come hai visto il contatto del rigore dal campo, se ti è sembrato punibile con una decisione del genere o meno? Ma non ne parlo, non ne parlo, non ne ho mai parlato, quello che avevo da dire l'ho detto a lui e poi è un peccato grande, è un peccato molto dispiaciuto perché questa è una prestazione che meritava ai tre punti ampiamente, l'avversario era di valore, era forte. Usciamo con un punto, comunque deve essere una grande esperienza perché qualche eroduccio prima di arrivare a quell'episodio l'abbiamo commesso di superficialità e invece sono tutti piccoli dettagli che poi alla fine vanno a fare un grande dettaglio perché poi altre volte c'è andata anche in maniera migliore, quindi non è il punto in più o il punto in meno è proprio riuscire a rimanere dentro la gara al di là poi dell'episodio che penso che, ripeto, quello che aveva da dire l'ho detto a lui e spero che se lo ricorderà. Mister, comunque i 14.000 non sono rimasti delusi e soprattutto la partita sarà, come si dice, gustata fino in fondo. Io sull'azione del rigore non ti voglio sfurguliare perché non sei neanche corretto perché andrei a prenderti in un momento ancora che non hai scaricato bene. Vorrei solo ricordare quello che è successo pochi minuti prima, sotturati. Allora, se addirittura quello non è neanche fallo, come fa a essere fallo? Poi il rigore che sulla carta si può anche fischiare, diciamolo, però fino a un certo punto perché poi si valuta che è il giocatore che lo va a cercare e soprattutto venendoti alle spalle e soprattutto che poi il VAR neanche può aiutarti. No, 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 non mi rispondere. No, invece una piccola risposta te la do perché comunque quando parlo di avversario forte è avversario forte perché sa anche cogliere le occasioni quando non ci sono e loro davanti hanno dei giocatori bravi, in mezzo avevano dei giocatori bravi e Gianluca sapeva in quel momento che era la cosa giusta da fare per cercare di trarre ringanno l'arbitro. Allora, la domanda mia è questa. Siamo partiti faticando perché si è visto che il Frosinone non riusciva a venire fuori da quella rete che avevano steso loro molto bene e si vedeva che la squadra non riusciva a chiudere le linee di passaggio. Però dopo è stato un Frosinone fantastico contro la squadra più forte ma per distacco che io ho visto in questa Serie B perché il Cagliari, al di là della nostra amarezza, è assurdo che stacco quei punti perché è una squadra meravigliosa sul piano del gioco ma meraviglioso il Frosinone per quello che ha dato oggi e che stava vincendo la partita purtroppo con qualche errore di troppo quel fallo laterale regalato da Frabotta. Sono d'accordo, sono d'accordo perché comunque abbiamo fatto fatica a tratti sia all'inizio ma anche durante la partita ma era impensabile non fare fatica contro dei giocatori forti come li hanno loro perché li hanno molto forti però siamo stati bravi a fare la partita bene a meritare un punteggio pieno a non riuscire a ottenerlo però ripeto, poi alla fine i punti che uno riesce a racimolare sono quelli che merita quindi prendiamo questo pareggio nelle cose positive e nelle cose meno positive cerchiamo di andare avanti e sappiamo che ci aspettano altre gare altrettanto difficili anche se non tutte le squadre hanno questi tipi di interpreti però tutte le squadre in questa categoria ti mettono in difficoltà se non ti presenti al massimo Roberto Monforte, mister, le do un'altra chiave di lettura non so se le strappo un solito stiamo ragionando sul rammarico per il pari con i Cagliari da primi in classifica con 5 punti di antezzo sulla Reggina e 8 su Genova e Brescia ora tutto questo comunque deve far capire anche alla piazza che momento stiamo vivendo lo so che è un atteggiamento un po' provinciale il mio nel farle questa domanda però vuoi trasmettere anche un po' di vedi per terra per tutti per quello io dico che sono orgoglioso della prestazione perché poi non si deve dimenticare da dove si parte fermo restando che quando sei per strada poi hai voglia sempre di pedalare di pedalare forte consapevoli delle grandissime difficoltà che ci sono però anche consapevoli delle nostre qualità che ci hanno permesso fino ad ora di fare un campionato strepitoso e dobbiamo essere bravi a continuare a farlo sapendo che gli avversari ora quando arrivano quando andiamo non giocano più contro una squadra comunque che si organizza per inizialmente comunque per fare un buon campionato giocano contro la squadra che è capolista che ha tanti punti di stacco e che quindi tutti arrivano con il coltello tra i denti e le antenne ben alzate e noi dobbiamo essere bravi a fare altrettanto per poter esprimere le nostre qualità mister buonasera Alessandro Andrelli di G24 Radio Day quanto un giocatore come Insigne che si rende conto di poter essere utile alla squadra anche subentrando dalla panchina sta per diventare forse una carta in più da giocare in questa stagione e quanto è stato bello entrare e vedere lo stadio pieno stasera Parto la seconda perché approfitto anche per ringraziare che mi hanno detto che non l'avevo visto ero molto focalizzato sul rettangolo verde mi hanno fatto una stricione di auguri quindi ringrazio la gente della curva ma ringrazio la gente dello stadio che oggi è stato da pieno è un colpo d'occhio bellissimo ci hanno sostenuto ci hanno trascinato ci hanno aiutato e per noi questo è un motivo di grande orgoglio e quindi cerchiamo quotidianamente di rispettare questa grande passione dando tutto noi stessi e proveremo a continuare a farlo per quanto riguarda la prima domanda Roby viene a due partite in cui subentra e fa delle cose importanti è un giocatore bravo conosce il calcio riconosce gli spazi giusti sa giocare con i compagni è bravo a entrare ma è bravo anche a giocare quindi insomma ci saranno partite in cui inizierà partite in cui entrerà perché comunque è uno dei tanti giocatori bravi che abbiamo nella squadra Buonasera mister Giancarlo Cornacchi a Tuto Cagliari ecco per quanto concerne il rammarico in relazione al risultato è condizionato anche dal fatto di non essere riusciti a chiudere effettivamente la gara prima perché effettivamente il terzo gol considerato il secondo tempo del Cagliari l'avrebbe potuto definitivamente mettere al tappeto Sì fa parte delle cose che dobbiamo essere bravi a cogliere che i presupposti per farlo li abbiamo creati siamo arrivati tante volte in area abbiamo avuto le opportunità per ammazzare la gara e non ci siamo riusciti e poi quando giochi contro la squadra così perché se fa la federazione del gol insomma c'è Nandez che recupera una palla che è persa c'è dentro l'area comunque con molta furbizia la padula si prende un bel rigore e poi addirittura rischiamo di perderla quindi la partita ha tante letture nel finale che ci devono aiutare noi con tanti interpreti abbiamo dei giocatori esperti che comunque sanno sostenere il gruppo e poi anche tanti ragazzi giovani che devono scoprire quello che sono i campionati le partite per usare la furbizia quando quando è il caso di usarla Buonasera mister Giorgio Bruni prima parlava di percorso a proposito di percorso le prossime due tappe saranno su Tirol di Bisoli e la regina di Filippo Enzaghi saranno due partite in trasferta cosa dirà la squadra per arrivare pronti a due partite cruciali per la stagione beh semplicemente dirò che andiamo a giocare su Tirol che penso non perda dopo vado ad approfondire ma tantissime giornate ha fatto vittime il lusso nel suo campo è una squadra che dà grande ritmo che è molto generosa con delle qualità belle all'inizio è partita con qualche difficoltà è venuta fuori la grande da queste difficoltà quindi se facciamo una classifica delle ultime otto-nove giornate la troviamo nelle zone alte della classifica come la troviamo adesso tuttora anche nelle zone semi alte della classifica quindi pensiamo a quella ci focalizziamo su quella perché comunque ci sarà tanto da da battagliare per portare a casa un risultato positivo che è un risultato positivo Grazie.